Buongiorno e benvenuti alla conferenza internazionale organizzata dal progetto europeo Comunia dal titolo University in Cyberspace Reshaping Knowledge Institutions for the Networked Age. Grazie di essere qui all'inizio di questi tre giorni densi di appuntamenti e di riflessioni come avrete visto dal programma. L'obiettivo di questo inizio di conferenza è quello di innanzitutto di salutarvi e per i saluti siamo qua sul palco con il Rettore del Politecnico di Torino Francesco Profumo che ringrazio di essere qui, con il Professor Wurz Gasser, Executive Director del Berkman Center for the Internet Society che è qui sul palco come coorganizzatore insieme al Centro Nexta del Politecnico e vi vogliamo salutare, introdurre l'argomento, poi per il resto della mattinata ci sarà una conversazione tra me e il Professor Charles Nesson, fondatore del Berkman Center e anche ideatore dell'idea di questa conferenza e vi racconteremo che cos'è il progetto Comunia e in cosa consiste l'idea fondante di University in Cyberspace e poi avremo l'onore del keynote introduttivo della conferenza che verrà dato dal Professor Stefano Rodotà. Darei la parola al Professor Francesco Profumo, Rettore del Politecnico, per i saluti. Grazie. Grazie molto, Juan Carlos. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Spero che nonostante la calura di questa prima giornata voi possiate trascorrere alcuni giorni anche attraverso la città. La città è una città molto interessante in questa fase di trasformazione da città industriale a un qualche cosa che non è ancora ben definito, non lo sappiamo ancora cosa sarà, ma certamente una componente sulla conoscenza e su tutto quello che è smart probabilmente consentirà a questa città di avere un nuovo sviluppo. Io naturalmente vi porto i saluti a nome dell'Ateneo, ma sono qua soprattutto perché ho condiviso con Juan Carlos questo progetto fin dai primi momenti. Ho vissuto con lui l'avviamento del centro NEXA e poi delle attività che ne sono conseguite. Diciamo che nel DNA di questa scuola ci sono molti degli elementi che hanno ispirato la creazione del centro e la conferenza. E noi crediamo veramente che in questo momento sia necessario un ampio dibattito su quello che saranno le istituzioni di formazione nel futuro, tenendo presente del ruolo che le tecnologie possono oggi giocare nello sviluppo. Abbiamo un'attenzione particolare anche rispetto al fatto che i nostri nuovi studenti sono studenti diversi dai precedenti, sono studenti che sono nativi digitali, per cui hanno competenze, hanno interessi, hanno sistemi di relazioni che non hanno uguali rispetto alle generazioni presidenti. E noi abbiamo una grandissima responsabilità. Abbiamo una responsabilità di creare un ambiente che consenta loro di crescere, di non annoiarsi e di trovare quegli stimoli che trovammo noi quando eravamo studenti nella loro condizione. Non è facile, non è facile, anche perché il sistema della formazione non ha ancora recepito completamente quelle che sono le grandi opportunità determinate dalle nuove tecnologie e quali possono essere gli sviluppi futuri. L'accelerazione della base tempi che si è venuta a creare in questi ultimi anni nella consapevolezza che le nuove tecnologie sono parte integrante della nostra vita è un'accelerazione che non ha avuto uguali nei decenni precedenti. Noi ce ne rendiamo conto quasi quotidianamente. Vedo il professor Mezzalama qua di fronte a me con il quale spesso discutiamo di questa cosa e ci accorgiamo come negli ultimi due o tre anni effettivamente le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente la vita all'interno delle università. Però le università sono ancora costituite da aule, sono ancora costituite da una parte tradizionale di relazioni che non corrisponde a quello che è il sentire degli studenti, degli studenti che stanno arrivando. Credo quindi che abbiamo una grandissima responsabilità da questo punto di vista. Sono certo quindi che queste giornate di lavoro saranno estremamente interessanti ed importanti e mi auguro che ci sia anche la partecipazione di molti giovani, di molti ragazzi, di molti studenti, perché probabilmente solo attraverso il loro sentire e il loro input potremo individuare quella che è la strada del futuro. Non la vorrei fare troppo lunga. Vi ringrazio molto, ringrazio naturalmente Juan Carlos, ringrazio il Bergman Center di Harvard, ringrazio gli sponsor e tutte le persone che hanno partecipato a questa operazione. Un sincero ringraziamento anche al professor Ricolfi, che vedo qua di fronte, con il quale abbiamo condiviso fin dai primi momenti questa opportunità, io la chiamo una grande opportunità, per questo territorio di far convivere competenze diverse all'interno di un centro che inizialmente era solo un nome e che oggi credo che sia diventata ormai una realtà e una realtà alla quale noi poniamo una grande attenzione. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a tutti. Aggiungo qualche parola per dire che la presenza degli studenti che ci hanno accompagnato nel corso dell'organizzazione di questa conferenza ha due aspetti in particolare, il primo vi circonda perché vedete queste fotografie che sono ai lati della sala, che sono fotografie di studenti che sono state scattate durante un concorso in cui provavano a immaginare sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi dell'università e poi avrà un momento visibile con una sessione plenaria mercoledì mattina, organizzata completamente e condotta da studenti, quindi quello sarà il momento in cui verranno sul palco a dire, come giusto che sia, il loro punto di vista su questo argomento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la prima volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. molto breve e sicuramente non voglio perdere l'opportunità di ringrazio per invito a Torino per co-hostare questo evento. È stato un piacere lavorare con voi e l'exa team. Sono guardato a tre giorni di conversazione. Abbiamo un programma molto interessante, e ho spero che molti di voi viaggi in e chiedere la discussione, che non solo sarà una serie di pannelli, ma un ongoglio conversazione e un evento molto in spirito di precedenti comunia. workshop so with that again thank you very much of course also one Carlos and thanks to your team for having us thank you sir and let me conclude by saying that an event meeting of this complexity wouldn't have been possible without the contribution of several actors at different levels we started with a seminal idea two years ago professor Charles Nesson you will be hearing soon on the stage but then an organizing committee in a program committee started working over one year ago so you can find in the program the the members of the program committee who were actually really proactive in trying to let us understand how broad was in our initial idea and how we should should have focused more clearly on our universities as knowledge institution there was an amazing contribution on the program committee that was representing a large part of leading institutions from all over the world and the organizing committee which is not only the next center the Polytechnic of Turino and the Berkman Center but also an important team of the staff of the administration of the Polytechnic of Turin itself thanks also to to the intervention of the directors so without them all these wouldn't have been possible and finally since even if you try to do things as as sober as possible you we still need a support and financial support and moral support so I would like to thanks the president of the Italian Republic who gave us the alto patronato of the of the president of the Republic and the support and the patronage of the region of Piemonte of the Provincia di Turin on the community in the city of Turin and then the support of the istituto superiore Mario Boella camera di commercio industria artigianato di Torino fondazione CRT in collaboration with biennale democrazia in particular the session on the civic role of universities tomorrow morning and with la stampa okay we'll be following is already following with a blog our event and we'll be following also in the paper version of the newspaper in the following day so thank you again for being here and thanks to professor profumo for being here at the welcome address thank you